buongiorno a tutti i ragazzi amici pescatori lunedì 21 settembre 2020 finalmente mi sono comprato la barca mare spettacolare oggi faremo un po di traino un pedalò siamo sul pedalò ragazzi ma con le banche vieni vieni che ti faccio salire sono in famiglia sul pedalò ma comunque la lenza a mano me la sono portata quindi la traina la faccio lo stesso vabbè dai vi aggiorno dopo eccoci qua 10 minuti l'amo in acqua ma ancora non senta niente però ci stiamo divertendo alla grande tra scivoli e bagni in famiglia ragazzi abbiamo scappottato a cu pedalò alla grande la triglietta ora lasciamo subito questa vai bella niente ritorniamo abbiamo comunque scappottato con la triglietta e ora ci provevo d'arriva siamo scarsi con la traina ma dopo dai adesso ci proveremo per un'oletta d'arriva comunque vi è piaciuta la mia barca vedete vedete visto il motore yamaha che aveva motore yamaha tale putianzo mamaa da arriva poi non è uscito nulla oggi comunque giornata fantastica i bambini sono divertiti tantissimo era la prima volta per loro sul pedalò vederli sorridere in quel modo vederli scivolare allo scivolo è stato bellissimo il video pubblico stesso è che divertente anzi tutto il pubblico che mi segue vi ho dato uno spunto vi ho dato uno spunto per fare traina o valentino di profondità ragazzi un abbraccio a tutti